Quando nel 2006 io ho cominciato a indagare su che cosa si potesse autoprodurre in casa ho trovato su internet delle persone che facevano il sapone in casa e io mi immaginavo un grande pentolone in cui per ore, 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 ore giravano degli intrugli pazzeschi tipo fattucchiera quando poi nel 2007 sono finalmente riuscita a fare il sapone perché me l'hanno insegnato a fare mi sono resa conto che è un'attività alla portata di chiunque e non serve un'ora per farlo, serve veramente poco tempo però bisogna avere le giuste accortezze Un libro che mi è stato veramente prezioso per imparare a fare il sapone e per esplorare meglio tutte le tecniche è stato questo Adesso non si chiama più così ed è il libro che vi consiglio oggi Si chiama Il sapone fatto in casa for Dames Il sapone fatto in casa for Dames è di Patrizia Garzena e Marina Tadiello Queste due donne hanno il merito di aver portato in Italia un metodo applicabile nella nostra vita quotidiana perché non è assolutamente affrontabile il sistema di una volta quello dove si buttava tutto in un unico calderone che era quello che avevo in mente io Sia che sappiate fare il sapone sia che non lo sappiate fare questo libro è veramente importante e prezioso perché contiene tutte le informazioni base per poterlo fare correttamente Ci sono un sacco di metodi diversi, insegna ad utilizzare un sacco di ingredienti diversi spiega bene tutti i calcoli complicati che una persona dovrebbe fare per fare bene il sapone però senza spaventare è anche possibile attraverso questo libro semplicemente realizzare le ricette inserite e farle senza dover fare particolari calcoli matematici Per me fare il sapone è una droga perché fare questa reazione chimica in casa in maniera così facile ovviamente bisogna avere guanti, mascherina, occhialini per carità però in sé è molto facile è forse l'autoproduzione in casa che dà la quantità maggiore di soddisfazione perché vedi nascere dalle tue mani con tre soli ingredienti di fatto una saponetta che sei abituato o abituata a comprare già fatta e veramente lo consiglio a tutti di provarci almeno una volta nella vita a fare il sapone a fare il sapone